Vi mando questo video per ringraziarvi delle prestazioni che ho fatto presso di voi, presso l'SOS. Qua i nostri cari medici dicono che darsi il curare all'estero non è valido, in quanto non c'è igiene, i materiali sono scadenti, posso smentirli in qualsiasi momento. Premetto che io ho fatto 40 anni di infermiere, di cui 10 passati in sala operatoria di neurochirurgia. Vi posso garantire che l'igiene che ho trovato in quei studi dentistici è nettamente superiore a qualsiasi sala operatoria italiana a livello di igiene. Poi che dire, per non parlare dei prezzi chiaramente, sono prezzi, io questi verai esidenti che mi hanno messo, ho speso 7.350 euro. Qua in Italia ne avrei speso i 22.000-23.000, avrei dovuto fare un mutuo praticamente fino a che morte non sopraggiungesse senza un sopraggiunga. Problema di lingua non c'è perché parlano tutti l'italiano, problema alimentare nemmeno perché sotto la clinica appena usciti a 3 metri c'è la pizzeria che si chiama pizza mania, si mangia benissimo e si spende pochissimo. Io sono felicissimo, ultracontento di questo lavoro che ho fatto. È stata un'esperienza positivissima in tutti i sensi, sia per la professionalità dei medici, delle assistenti di tavolo, la cortesia ricevuta da parte delle ragazze della logistica, da parte di tutti.